Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tre glorie al Padre in onore della Santissima Trinità, ringraziandola per averci donato l'Angelo Custode. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Angelo mio Custode, affezionato compagno e vero amico, che sempre e ovunque mi accompagni. Io ti saluto e ti ringrazio insieme a tutto il coro degli Arcangeli, eletti da Dio ad annunziare i Suoi messaggi. Illumina la mia mente per farmi conoscere la volontà di Dio e muovi il mio cuore a metterla in pratica, per vivere conformemente alla fede che professo. Così da ricevere nell'altra vita il premio promesso ai veri credenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.